ferragosto taranto dovrebbe essere una città turistica mi trovo a piazza fontana quindi in un punto strategico di una taranto turistica voglio farvi vedere lo schifo lo stato di decozione la merda in cui si trova la fontana di piazza fontana guardate un po qui la melma i rifiuti lo schifo l'acqua che è diventata stagnante qualcosa di impressionante guardate qui manca solo che escano le rane ma tra un po accadrà e basta spostarsi fare in giro di tutte le vasche della della fontana di piazza fontana e vi rendete conto allora caro sindaco melucci caro assessore allo sviluppo economico al turismo nonché vice sindaco fabrizio manzulli vi rendete conto dello stato di schifo in cui si trova la fontana di piazza fontana ma secondo voi questo è il biglietto da visita al turista che esce dalla stazione dice buongiorno taranto cos'è questo il messaggio di benvenuto benvenuti a taranto o benvenuti nella merda o nella melma fatemi capire hai capito manzulli manzulli vice sindaco tu che parli di sentiment di questo appeal di questa attrazione che taranto esercita grazie alla vostra amministrazione voi fate scappare i turisti voi fate vergognare noi tarantini di essere tarantini per come avete ridotto taranto questo è uno stato di merda questo è il peggior biglietto da visita che possa esserci per tanto guardate qui guarda questa è non so una una palude stagnante un qualcosa di di pauroso è inutile caro mattia gior che mi fai mi presenti i rendering e fai vedere così sarà taranto questo è il progetto per piazza fontana questo è il progetto per la strada per la stazione tutte puttanate tutte puttanate tutte favole che raccontate ai tarantini come le puttanate che avete raccontato per lo stato la realtà è questa che il 15 di agosto il turista viene a taranto e trova la merda il turista viene a taranto e trova la merda e non vi scandalizzate delle mie parolacce piuttosto rendetevi conto di quella che è la situazione guardate guardate non ho altro da dire qui si rischiano anche infezioni perché l'acqua che ristagna con tutti i rifiuti e con le temperature altissime provoca infezioni capito melucci capito manzulli andate nelle altre città d'italia andate anche in puglia martina ostuni al vero bello a lecce e imparate come si amministra una città taranto è ridotta della merda e siete voi ad averla ridotta in questo stato perché non siete capaci di amministrare sparite politicamente da taranto fate solo guai buongiorno turisti questo è il ferragosto che l'amministrazione melucci vi sta offrendo che vi piaccia o no cari amministratori di taranto è proprio così grazie a tutti